Torna a Firenze la borsa del turismo congressuale, la fiera del mercato degli eventi dei congressi. Operatori, professionisti del settore politica si incontrano per fare sistema e risollevare le sorti di un settore che soffre dell'attuale crisi economica. La priorità dunque è fare networking e la regione toscana si pone come elemento di raccordo per un settore che ritiene strategico per il futuro. Quali sono le strutture che possono accogliere il turismo congressuale in Toscana? Anche perché guardandosi intorno, penso all'Emilia Romagna, penso a Bologna Rimini, hanno delle strutture enormi, difficili da contrastare. Certo, dunque noi abbiamo ovviamente un segmento molto variegato in quest'ambito. Abbiamo i nostri poli fieristici congressuali che sono appunto Firenze Fiera, Arezzo e Carrara ovviamente sotto questo aspetto. Abbiamo tantissimi centri che svolgono un'accoglienza, un'ospedità straordinaria per quanto riguarda il congressuale. Lavoriamo ovviamente sia sulla formazione, sia sul miglioramento dell'offerta, sia sull'intercettare l'offerta in maniera tale che il turismo congressuale diventi davvero una leva sempre più forte all'interno della nostra regione. Forum con i politici in cui operatori e la politica si incontrano, ma per cosa? Noi portiamo per la prima volta in Italia questa esperienza che è abbastanza anomala, perché è un forum in cui i politici invece di parlare ascoltano, che insomma non è così consueto per il nostro paese. Naturalmente è il primo anno, è un modello che va stabilito, va collaudato, va un po' assestato sul mercato, però sarà sicuramente un movimento di confronto internazionale, politico anche internazionale, perché ci sono anche rappresentanti di convention bureau esteri, per parlare di come gli operatori e il territorio attraverso le istituzioni e la politica possano e debbano collaborare di più per far diventare il congressuale un settore sempre più redditizio. Se non gira l'economia i congressi su cosa si fanno? Questo è sicuramente il problema, diciamo che ci sono due elementi che influiscono in modo pesante sull'andamento del mercato. Il primo è sicuramente la scarsa propensione delle aziende a investire e a spendere comunque in servizi di questo tipo. La seconda è che ci sono molte forme nuove di aggregazione, a parte il congresso, queste forme talvolta sfuggono un po' alla maglia delle imprese di questo settore. Alcuni dati danno il quadro della situazione, si sta riducendo la dimensione media degli eventi, si fatica a riempire sale e congressi da 7-8 mila posti, ma allo stesso tempo Firenze registra il 22% di espositori in più rispetto alla precedente edizione, doppio dei visitatori pre-registrati che potrebbero triplicarsi a fine evento, segno che c'è voglia di riscatto.